Euroatria vi presenta i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto. Qui abbiamo vari dispositivi di protezione, tutti in categoria 3. Cosa significa? Che ogni anno questi dispositivi di protezione devono essere ispezionati, hanno una durata di circa 10 anni. Qui abbiamo la cintura che viene usata per la maggiore incantieristica, che è una cintura con attacco dorsale e sternale. Qui abbiamo un altro tipo di retrattile che ha una lunghezza di due metri e mezzo. Qui abbiamo una simulazione di una linea vita su un tetto. Possiamo vedere l'operatore con la cintura e con il retrattile da due metri e mezzo, allacciato posteriormente. Qui abbiamo un dispositivo retrattile che viene usato per evitare le cadute dall'alto. Questo ha una lunghezza fino a 15 metri. Poi passiamo alla linea vita temporale. Questa è una linea vita temporale che viene installata in posti dove si ha bisogno di fare una manutenzione e si allaccia questa linea vita che può essere usata per due operatori. Questa parte dai 5 metri e arriva fino ai 20 metri. Abbiamo la possibilità di avere anche la linea vita fino a 25 metri con i 4 operatori in lavoro. Altro dispositivo di sicurezza abbiamo la pinza che viene usata in special modo a chi fa lavori sui ponteggi dove hanno bisogno di un attacco immediato sul ponteggio. Vediamo così viene aperta e poi inserita così e viene rilasciata. Qui abbiamo un cordino con l'assorbitore inserito. Questo è un cordino da un metro con l'assorbitore che nel caso il malcapitato operatore cadesse qui si strappa e ammortizza il colpo di caduta. La lunghezza di questa fettuccia è di circa un metro e ottanta. Qui abbiamo un cordino che viene usato di solito sulle piattaforme per allacciarsi e non ha bisogno dell'assorbitore. Al limite uno acquista solo l'assorbitore e solo il cordino e vengono praticamente accoppiati nel caso che abbiano delle esigenze diverse. Qui abbiamo una cinta che viene usata per allacciare o le linee vita temporali o gli ancoraggi per i dispositivi retrattivi. Qui possiamo vedere dei connettori. Qui abbiamo un connettore in acciaio con la chiusura. Qui abbiamo un connettore in alluminio con chiusura automatica. Molto importante per chi lavora in quota usare e metti di questo genere. Per maggiori informazioni cliccare sul nostro sito o mandare una email. Questi materiali li trovate su dispositivi anti caduta sul nostro sito euro atria.